In queste ore a Nocera Inferiore è stato diagnosticato un caso di influenza suina. Ad essere colpita dal cerpo influenzale una donna di Olbia che si trovava a Nocera per far visita ad alcuni amici. La ragazza è giunta all'ospedale Umberto I due giorni fa, ricoverata per febbre alta. Durante un nuovo accertamento è stato effettuato un tampone linguale che è risultato positivo all'H1N1. Questa mattina è partita quindi la denuncia obbligatoria per la malattia. Dopo la diagnosi in via precauzionale è stato ricoverato anche il ragazzo originario di Avellino. Entrambi si trovano ora nel reparto di malattie infettive dell'Umberto I diretto dal dottor Mariano Corrado. Dall'ospedale arrivano le rassicurazioni. Si tratta di un caso isolato per cui non si può parlare di allarme. I sintomi risultano molto simili a quelli di una comune influenza. Si assiste in particolare alla comparsa con maggiore frequenza di febbre, mal di gola, mal di testa, tosse, sonnolenza, dolore agli arti e ai muscoli, sensibile diminuzione dell'appetito. La febbre generalmente viene meno in pochi giorni, mentre i sintomi respiratori tendono a persistere un po' di più in caso di influenza suina. Normalmente si guarisce in breve tempo, ma come già per la comune influenza, anche l'influenza suina può dare luogo a delle complicazioni, anche gravi, nelle persone che presentano un sistema immunitario compromesso o depresso. Il nome è legato all'origine animale e a partire dagli anni 70 si è associata alla comune influenza stagionale.